In attesa del calendario del campionato, dopo che il Tarra ha respinto il ricorso del Giarre, le squadre del Girone I di Serie D affrontano l'ultima fase della preparazione, in vista del debutto previsto il 18 settembre. Sarà un sabato di lavoro anche per la San Cataldese, che alle 15.30 allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo sarà impegnata in un amichevole con il Canicattì, Parigrado. L'ingresso sarà libero, si prevede una massiccia presenza di pubblico, proveniente anche dal vicino centro agrigentino, anche alla luce degli ottimi rapporti tra le due tifoserie. Per i Verde Amaranto sarà un'occasione importante per mettere a punto schemi e soluzioni tattiche dopo le due partite di Coppa Italia contro Catania e Paternò. Due gare che hanno evidenziato note positive e altre meno, indicazioni utili a poco più di una settimana dall'inizio del campionato. C'è attesa negli ambienti calcistici sancataldesi per il calendario del Girone, per conoscere la prima avversaria di un campionato che si preannuncia molto interessante. La qualità e l'importanza delle piazze impegnate, da Catania a Trapani, da Cireale a Licata, rappresentano certamente uno stimolo in più a far bene per la San Cataldese, che oggi è la massima espressione calcistica della provincia nissena.